buongiorno in questo video vi spiego il we spread un indicatore creato per il trading con lo spread tra coppie di cfd come ad esempio in questa schermata notate gold vs euro dollar gold vs silver e uno spread che ho ideato io secondo i miei canoni che prende in considerazione non solo due coppie ma quindi non solo una coppia ma due coppie in contemporanea qual è la logica la logica è di effettuare una serie di calcoli qui vedete i risultati che vi danno poi a che creano questa curva che è proprio lo spread di tutto ciò che vedete e le frecce ad esempio che trovate qui in auto indicano che lo spread è arrivato un punto troppo alto deve ritornare nella parte bassa mentre alcune volte possiamo avere delle frecce nella parte bassa che indicano quindi che uno spread dovrà ritornare nella parte alta quindi ho creato anche una media e questo valore ci serve come punto di uscita in questo esempio andremo a vedere l'ultima freccia che ci indica uno spread ribassista come notate dopo la freccia abbiamo avuto un movimento un po contrario per poi alla fine ritornare verso la media quindi ci sarebbe un ingresso qui e un uscita quindi che sarebbe l'1 11 e un uscita il 29 11 questo tipo di spread è realizzato con la colonna di tipo slow quindi lenta ecco perché dura quasi un mese naturalmente gli utilizzatori del widespread possono personalizzare i sottostanti andando anche a fare attenzione al contrast size di ogni sottostante in modo tale che si possa avere un elemento corretto e poi utilizzare o il livello di slow o il livello di spread medio o il livello di spread veloce a seconda delle informazioni ho notato che con il gold e con il petrolio o con le materie prime il lo spread chart sullo è quello che dà più soddisfazioni mentre se si lavora solo sul forex quindi euro dollaro sterlina e altro e lo spread mid è molto più performante ok andiamo a vedere subito alcune a questo tipo di esempio innanzitutto questa freccia quindi mi indicava che era il momento di vendere lo spread vendere lo spread significa vendere la prima la prima leg quindi in questo caso vendiamo gold e compriamo euro dollaro e nella seconda riga faremo la stessa cosa vendiamo gold e compriamo silver se ci fossero state altre valute quindi avremmo venduto le prime e comprato le seconde se invece la freccia fosse stata al rialzo quindi dal basso verso l'alto avremmo dovuto comprare la prima colonna e vendere la seconda colonna ok allora questo esempio quindi vendita di gold io l'ho riportata qui queste sono le due date a questo punto che cosa succede togliamo con il licimoco così non ci confondiamo allora eccolo qua vendiamo quindi al close di questa candela quando ci nasce il nostro prezzo di la nostra freccia e chiudiamo al close della candela quando raggiunge quindi la media abbiamo 88 tic di guadagno il gold lo dobbiamo vendere per ben due volte perché la prima per la prima prima spread e il secondo spread quindi cosa succede succede che dobbiamo fare quindi 88 tic per due volte per 8.82 che è il valore di un lotto vedete qui cosa c'è scritto gold un lotto vale 8.82 per tic quindi abbiamo incassato da questa da questa vendita 1552 euro ok perché questo è un valore in euro adesso dobbiamo togliere invece anche i risultati del l'acquisto di euro dollaro perché abbiamo venduto gold e dobbiamo acquistare euro dollaro quindi vado a prendere l'euro dollaro lo trascino qui stesse date cosa notiamo euro dollaro lo acquistiamo in questo punto e lo ricompriamo in questa chiusura perdiamo 11 pips 11 pips in questo caso quanto ci incidono ci incideranno quindi prendo un'altra raccolatrice ci incideranno 11 pips per 8.82 per un lotto e 10 106 euro quindi perdiamo 106 euro quindi qui andiamo a scrivere meno 106 1.446 perché questo perché questo questo movimento perché il lotto e rezio è 1.10 quindi significa che un lotto di gold corrisponde all'8.10 di euro dollaro manca adesso l'acquisto del silver quindi andiamo a prendere il nostro silver eccolo qui sempre stesse date di apertura e chiusura quindi compriamo qui chiudiamo quando arriva a questo punto come vedete perdiamo 43 tic stavolta i 43 tic valgono 44 euro ogni tic e il lotto da utilizzare è per un lotto di gold è 0.34 quindi nella seconda nostra calcolatrice faremo 43 tic per 44.11 per 0.34 abbiamo perso 644 euro che cosa dobbiamo fare naturalmente li dobbiamo togliere dal calderone quindi dalla nostra incasso 644.88 da questo spread sono rimasti 800 euro di profitto ecco come funziona quindi lo spread trading tra queste coppie quindi abbiamo preso così come lo potevamo fare prima quindi abbiamo comprato quando lo spread è arrivato a dei livelli esagerati secondo i miei calcolatori è rivenduto quando rientra nella media nulla vieta che questo potrebbe ancora scendere quindi a incrementare il nostro profitto però molte volte vedete un esempio qui scusate se ci fosse stato un buy avremmo avuto la possibilità di poter guadagnare molto di più ma è anche vero che infatti vi faccio vedere molte volte raggiunge la media e poi gioca sulla media quindi preferisco chiudere sulla media e ripartire lo spread inoltre si modifica in base al time frame che si utilizza quindi chi vuole lavorare in H4 può ricercare il segnale H4 ad esempio in questa fase non ce n'è in H1 c'è un buy c'è stato un buy che non è arrivato alla media ed è ritornato qui indietro quindi sta soffrendo sicuramente significherebbe fare buy di gold e vendita di tutto il resto M30, M15 a volte ecco va bene dobbiamo far caricare i dati però è questa la logica ci potrebbe anche essere il segnale settimanale ma il settimanale ad esempio è da un anno che è quasi piatto quindi non ha dato segnali ecco questo è lo spread con CFD, materie prime, metalli preziosi e altro nulla vieta di usare solo Forex o fare il mix di tutto grazie per questa piccola attenzione breve attenzione e naturalmente per chi è interessato può richiedere maggiori informazioni a presto